E ciao a tutti ragazzi sono Lorenzo e oggi andremo ad affrontare Sonic Tapes ma in VR Cioè ragazzi allora siamo su YouTube VR come vedete qua e sono sul mio bellissimo canale Cioè mi posso vedere in VR ma noi non dobbiamo vedere me stesso con tutta modestia Ma se noi cerchiamo Sonic Tapes Hanno fatto tutta la serie di Sonic Tapes in realtà virtuale Ed è bellissima dobbiamo vedere tutti i video compreso l'attacco di Sonic Tapes Cioè io con questo casco di arte virtuale vedo un Sonic Tapes gigante così Va bene ragazzi per dormire i sogni tranquilli lasciate un sacco di pollicini in su e cliccate il tasto e scriviti Per non farmi mangiare da Sonic Tapes Iniziamo Allora qua ne abbiamo tantissimi questo questo Ah ci sono diverse parti Allora io direi di iniziare con la parte 1 Wow pronti perché sarà fantastico Vai Sonic Tapes parte 1 Aiuto C'è il mondo di Sonic c'è Knuckles che balla Cosa c'è Sonic? Ragazzi questa è la prima fase di Sonic Cosa fa? No cos'è un cervello? Aiuto che è schifo Tails ciao Tails Scusate ragazzi se vi do le spalle ma Aiuto! No Sonic! Si è trasformato in Sonic e Tails Oh mamma mia! Scappa Tails! Corri! Sonic e la guardatelo! In tutto questo Knuckles balla ancora a bici di sì Tails scappa! Allora ricordiamoci che Tails alla fine di tutto questo diventerà pure lui brutto orribile Però intanto tu scappa Ok non vedo Sonic T'è entrato dentro una grotta Ok Tails perché sta entrato dentro una grotta? Ah forse perché lui è entrato dentro la grotta per proteggersi Per proteggersi da quel Sonic Allora non lo vedo Però Tails è spaventato Speriamo che non ci sia un Sonic qua Ok si sta proteggendo Tails proteggiti Tanto non c'è Sonic O forse sì O forse c'è Oh Ma dove è spuntato? Sonic no! L'ha mangiato no Tails! No! Ma come? Ragazzi questa animazione è stata bellissima Ed è solo la parte 1 Ve ne rendete conto? Poi ci sarà quella tipo gigante Allora andiamo al prossimo Allora il prossimo sarebbe la parte 2 Di Almonimation Siete pronti? Sì signor capitano! Ok Parte 2 Dove siamo? Chi sono io? Ah una persona che sta camminando Ah sono il poliziotto Quindi sono quel poliziotto fantomatico che andava in giro Che c'è sangue? Ok questi sono pezzi di Tails Che ci fa quella? Ma che è GTA 5? Tails tutto bene? Non mi sembri tanto a posto Un altro Tails No si sono doppiati Ma chi sei tu? Ah ma ragazzi ma questo è l'SCP Io sono un brutto poliziotto Ah questa è la statua Quella tipo che era a forma di maiale Ma in realtà è un'SCP Chi è quello? Un cuore Ma cuore si scrive con la Q o con la C? No Oh no Oh no Quello è Tails Esploso C'è Tails là Mannaggia Tails Che brutto Che sales Ok non ce ne sono altri Scappa Ok stiamo scappando Guardiamo dritti Guardiamo dritti Ah un altro Tails Oh mannaggia Tails Mannaggia Mi ha mangiato Oh E tu da dove spunti? Ragazzi questa è la seconda fase di Sonic Tapes Eh non ti è tardare ad avvicinarti Non ti è tardare a mangiarmi Vuoi fare appugni eh Ah Mannaggia te Allora Allora Posso dire una cosa Questa animazione mi piace Non so dove sono finito Ti è risvegliato E Tails Se mi ha rapito Per farmi chiedere Vabbè Ma che dispettoso Che sei No vabbè Non ci voglio credere Allora Troppo troppo bello Ragazzi Troppo bello E questa era la seconda parte Abbiamo ancora da vedere La parte 3 con Knuckles Knuckles Eppure Lui Sonic Tapes gigante La battaglia gigante Allora ragazzi Ne ho trovata Un'altra Che è Questa Puoi andare a vedere Questa E poi andiamo a vedere Quella con Knuckles Vai di questa Cos'è? Questa è qua sopra una collina Ah che bella casa Che succede qua? Oh mamma mia Sonic Che tutto bene Non ti vedo Molto a posto Che sta succedendo? Knuckles Corri Knuckles Knuckles Corri Knuckles Dove? Mannaggia vai Ma che roba è questa? Aspetta Mi devo girare All'altra parte Uh che bello Oh Oh No povera Mongas Ma cos'è sta roba? Ma cosa è diventato? Del se impazzito Del se impazzito Invidia Wow Invidia ma Cos'è meno No si mangia pure Invidia Ma cosa? Mangia pure L'unicorno Mongas Si mangia pure L'unicorno Mongas Ma lo sto seguendo Ciao Mongas No Ragazzi ma che video sto vedendo Oh no Sonic è diventato fase 2 Salute Sei tu l'impostore Allora io direi di continuare Andiamo all'animazione 3 Queste sono quelle più belle Knuckles Ragazzi Knuckles corre Ah aspetta quando vede chillato qualcuno Vediamo se c'è qualcuno Knuckles Oh no Knuckles Knuckles è spaventato Chi è questo? Luce the butt No sono i pezzi di E corre Perché corre? Oh Oh ma che teridi Aia Mi ha mangiato Mi ha mozzicato Va bene Knuckles Tu corri Anche se non sei il più veloce Ma sei quello che dà più pugni C'è il dottore Eggman che ti segue Cosa hai visto? Tails Tails tutto bene Tails ma cosa si è diventato Sonic Cosa significa tutto questo? Sonic fase 3 Corri Che vuol dire corri? Vai Knuckles corri Knuckles corri per favore Fallo per noi Facca tutto Pa 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 Guardate più corre Più quello diventa gigante Wa Ma Sonic dov'è Knuckles? È qua Povero Knuckles Che ti è successo, amico? Cosa fa Sonic? Ma quella che cos'è? Una mela dell'Eden? Ehi! Allora, non so cosa diamine sia successo Ma qualcosa mi fa pensare Che il nostro Knuckles, Knuckles, Knuckles Non è che gli è successo qualcosa di bello Voi che dite? No affatto Però tra l'altro ci abbiamo questa L'animazione parte 4 Sempre di Almo Animation Che sono tipo le migliori e le più belle Ma prima di andare a vedere questa Che è quella dove lui diventa Gigantesco Ne voglio vedere un'altra Oh! Ma Ma l'amongasso non dovrebbe killarlo? Non dovrebbe arrivare l'amongasso? Scusami Non ho capito che diamine schifo è Questo coso È scappato Ah! Ok! Ah! Questa è l'animazione del crewmate Però fatta in 3D Bellissima Vai! Amongasso salvalos! Perfetto Ora abbiamo un Knuckles Chi succede? Oh my god Vabbè Ok vai E adesso scontro epocale con il bazooka Cioè questa era l'animazione in 360 Beh ti posso dire Quelle di prima erano molto più belle Però dai ci sta per spezzare Adesso arriva il Knuckles Insieme a l'amongasso Distruggetegli il nasso Dai Yeah Boom Non lo fai vedere che esplode? Vabbè Bellissimo Attenzione ragazzi che ho trovato un video spettacolare con Sonic Xe E boyfriend Vai ragazzi Sfidatevi C'è Granny A caso Che ci fa Granny Non lo so Questo è sempre di Armour Animation Vai Yes Vai Cicomano Anzi Signor Maranza Perché mo È diventato un Maranza Granny Che ci fai qui? Che ci fa Shrek? Vabbè Lasci un perdere Ciao Topolino Ciao Alla prossima Vai forza boyfriend Ma quello là dietro Non capisco che ci fa E attenzione C'è Shrek che va Qua siamo nelle Green Hills No ma infatti è benissimo Questa animazione Scusami Posso dirlo? Fantastica Ragazzi mi raccomando Scrivetemi sotto nei commenti Quale è il vostro video preferito Ma ora Dovremmo andare ad affrontare Shinne Sonic Vediamo qua che succede Intanto Sonic Xe Deve perdere Là c'è Tails Guardate che brutto Ma che so Sti video Vai così Sonic Sonic prendi la sberla No scusami Maranza Maranza Cicopalo Prendi la sberla Nagiwagi che passa Ma mi pare normale Mi pare normale Non so perché cosa sto facendo Ma mi piace un sacco E siamo alla fine di questo video E andiamo a vedere Il mega Scontro tra il mostro Guardate le note che scendono Stupendo Il Maranza vince Oh Ha vinto il Maranza Questo è stato molto bello Ragazzi Questi video di Sonic Sono bellissimi Sono indeciso Tra quale guardare Sono tutti stupendi Ma io voglio vedere Quelli dove c'è Sonic Tapes Ma pure qua C'è Sonic Tapes Vediamo questo Oh Allora Siamo Tails Che sta scappando Quelle Sonic Una fase di Sonic X È strana Cioè pure Questo è tipo Halloween Quindi ci sta un sacco In termini di Halloween Dai scappa Tails Vai Corri Vai avanti Ma quello è Robin the Teen Titans Che ci fa Cioè guardate Stanno tutti ballando Non c'entra niente ragazzi Ma stanno ballando Non capisco il motivo Ma Ma quello è dog Dog coso Là Cartoon dog Tails Scappa più che poi Solo così Riusciamo a sconfiggere Sonic Tapes Secondo me succede Un'altra cosa strana Ah ma Quello è sempre di FNF Vai Haki huaki Oh mamma mia Haki huaki Oh Aiuto Comunque è pazzo Non per dirvelo Mario Kart Ma che c'era Mario Ma che qua ci sono Tipo tutti i personaggi Dei videogiochi Che ho giocato Fantastico Stai ritornando Mario Mario sconfiggi Sonic E' la tua neve Si bra Mamma mia Quanto è arrabbiato Ma Mario Mancosa guidare Mario l'ha cerchato Di investire Vediamo come finisce Sicuramente arriverò da qualche parte Guardate te Ho visto così a casa Giustamente tipo TORS Vai 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 Forza Che cos'è quello? Ah Quelli là Delle spooky skeletons Va bene Va bene Allora mi piace un sacco Però Io voglio Assolutamente Ah Stai un minuto Da c'è la casa Forse a questo E forse Dobbiamo arrivare Ok Mi sono fermato Tails Ma che diamine Ce l'hai fatta Tails Ce l'ha fatta Quindi Siamo salvi Bravo Tails Che succede Dove sono finito Ah Forse è il continuo È il continuo di SonicTapes Ok Ok Abbiamo un Huckles Sonic Oh Sonic contro l'Huckles Ma perché Cantano sempre Non ho capito Aspetta Forse Ah Questa è la lotta No No Aspettate un attimo Ok Questo Sonic Mi si deve trasformare In tapes Ora Va bene Ok ragazzi Andiamolo a vedere SonicTapes 360 Parte 4 Ok Ci siamo Il risveglio Di SonicTapes Il mostro gigante Peggio di Godzilla Dove è Knuckles Knuckles Ci sono un sacco di Tails Knuckles Non c'è Sonic che sta guardando C'è Sonic Non mi dire Brava Vai Vattene via Ti prego Vattene 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 La polizia Ma che deve fare La polizia contro Sonic Ah Sta andando in città Ragazzi Ok Dobbiamo stare attenti Sta andando in città Tails Che fai qua È bloccato Che quell'albero È stato Tails Knuckles Dove sei Knuckles Ok Che la lotta Abbia inizio Ma che è la fattoria Di Farming Simulator Knuckles Direi un po' Di Proiettili Di piombo Oh no Guarda Sonic Doing Ma da Ma Knuckles Ma che Ah E ora Knuckles è morto Non mi dire che Knuckles è morto No dai Non me lo dire No Knuckles è morto Non ci credo Io con questo bellissimo Shin Sonic Che da là sopra Posso anche terminare il video qui Spero tantissimo che vi sia piaciuto Il nulla Cliccare il tasto Iscriviti Se non l'avete ancora fatto Vi aspetto a Reggio Calabria Comics E anche a Romix Non ci vediamo Nel prossimo video E Ciao